Sì, oggi vi farò vedere le mie... Oggi giocheremo con quattro skin che mi sono uscite nello Star Drop. La prima skin è di... La prima skin è di... La prima skin è di... La prima skin è raffreddata. La prima skin è di... La prima skin è di una che non si muove. Smacchita! E abbiamo vinto! Adesso vi faccio vedere anche la seconda skin! Ecco qua la mia seconda skin! Poi si è buggato! Ecco! Quasi è buggato tutto! Ecco qua! 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 Occhio qua! Ecco qua! Ecco qua! ok 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 vi faccio vedere anche la mia terza skill aspettate qui ok vi faccio vedere anche la mia terza skill eccoci qua no one drowns when I'm around ok ecco qua buzz abbiamo vinto ok vi faccio vedere anche la mia ultima skill ok mortis io sono un creature della nonna non è vero 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 abbiamo fatto il primo giallo adesso abbiamo fatto il secondo non è vero 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 evviva non è vero non è vero non è vero non è vero ciao 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 Ciao